Bentornati su MyFootballJersey. Vi mostro oggi una delle maglie più belle, secondo me, di questa stagione. Questa, l'avrete riconosciuta, è la terza maglia del Real Madrid, questa volta in edizione player. La fan l'avevamo già vista e trovate qui in alto la recensione. Grazie a tutti. La maglia è veramente spettacolare. Come ho detto, una di quelle che mi piace di più per questa stagione. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Qualità ottima, la versione player, devo dire che è per me molto più bella della versione fan. Sono gusti, ma queste sono le mie preferenze. Il costo, lo vedete qui sopra? Beh, per una maglia così bella, veramente un affare. Qua sotto, in descrizione, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale. Prima però, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se volete vedere sempre nuove recensioni, questo è l'unico modo che avete. Per oggi è tutto. Alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Ciao!